Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo un altro paio di scarpe, dopo averle comprate per i miei figli mi sono piaciute talmente tanto che ho deciso di comprarne un paio anche per me, le Nike Air One Eye in versione Pine Green. Fatemi dire che anche questa volta la scatola è arrivata un po' ammaccata, però state tranquilli perché all'interno le scarpe sono perfette e non subiscono nessun danno. Ora vediamo insieme la vista dei dettagli, ci vediamo dopo alla fine, ciao! Le Air Jordan One Eye Pine Green sono state lanciate nell'autunno 2018 e sono diventate subito un classico. La Pine Green Jordan One ha lo stesso blocco colore della popolare colorazione Bread 2, che ha visto la luce nel lontano 1985, ma sostituisce gli accenti rossi con una tonalità verde scuro per accompagnare i pannelli in pelle bianca e nera sulla tomaia. La parte superiore in pelle utilizza una combinazione di colori bianco e nero con accenti Pine Green sul tallone, la suola e le ali in pelle che avvolgono il colletto. A differenza dell'originale Black 2, la tradizionale finitura bianca sulla punta è colorata con più Pine Green. Rifinita magnificamente in ogni dettaglio, questa versione si colloca tra le prime 5 della famosa Air Jordan One. Sarà perché le ho comprate io, ma per me queste scarpe sono stupende, peraltro sono fatte veramente molto bene, perfette, dei colori bellissimi secondo me, che si abbideranno benissimo alla maglia del Celtic che ho e che trovate poi la recensione sul canale, qua su in alto. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare le scarpe e potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per prendere queste scarpe o qualsiasi altra cosa che trovate sul sito. La spedizione è stata molto veloce, a parte l'inconveniente della scatola un po' schiacciata, le scarpe sono arrivate velocissime, sono arrivate in 18 giorni dall'ordine alla consegna direttamente a casa mia. Per oggi è tutto, spero di potervi rivedere presto sul canale per vedere altre scarpe o altre maglie e spero che prima di lasciarmi possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Ciao!